Chiudo gli altri due, gli altri due temi erano invece il discorso degli spazi che si articolano in una maniera molto diversa, come anche dagli interventi che sono civili fuori, gli spazi possono avere anche una loro redditività che li mette fuori dal discorso dei bandi e quindi però sono anche degli spazi, come dire, dei luoghi che riescono a mantenere quella continuità soprattutto ad esempio per le prove, per la produzione degli artisti, perché io vi ricordo insomma lo sapete tutti, dieci anni fa avevamo molti più spazi, voi avevate molti più spazi a disposizione dove provare a delle condizioni non di mercato, oggi questo non succede perché gli stessi spazi hanno una gestione burocratica che non gli consente sostanzialmente di stare aperti se non in termini di mercato perché anche l'associazione culturale è uno strumento che non funziona più. Il terzo punto è il discorso delle risorse, questo è un discorso più ampio perché ci troviamo un comune che non ne ha, non ne ha strutturalmente perché ha un bilancio di se stato, però chiaramente questo non può essere un alibi, è un discorso che può essere rimandato a livello nazionale. Io penso che tutto questo, a un certo punto lo dicevamo prima quando c'era a Bergamo, deve essere rimandato a livello nazionale perché se non facciamo questo salto ci sarà comunque poi uno stop che arriverà dal comune e dicono io questo non lo posso fare, qui se ne occupa la Corte dei Conti, qui se ne occupa il governo. D'altra parte il comune di Roma che è il comune più grande di questo paese nonché l'ente che amministra la capitale di questo paese ha la possibilità di rimandare una tematica a livello nazionale, quindi dobbiamo chiedere non da solo, non Luca Bergamo o la maggioranza del comune, ma l'assessorato in, come dire, sul reazione di un'assemblea cittadina chiede l'apertura di un tavolo tecnico nazionale, questo potrebbe essere un percorso interessante però va messo, va in qualche modo governato. Scusami Guido, posso dire anche per esempio che è internazionale, ci sono fior fior di capitali europei che sono sostenute, le municipalità delle capitali da fondi europei, ci sono dei progetti nati apposta, quindi è chiaro che non possiamo aprire un tavolo internazionale, però possiamo proporre a una sorta di ordine del giorno di questo tavolo di considerare per esempio sia, così come mi è capitato di parlare anche con il direttore Calvi, insomma sia per le risorse del teatro nazionale e per i suoi spazi soprattutto, ma anche per quelle del comune e di come deve fronteggiare una situazione culturale indissesto tanto quanto il suo bilancio. Io sono stata invitata a fare un intervento rispetto alla questione che secondo me è tutto sorgente, dei teatri dell'ex scintura, Quarticciolo, Torbella Monaca, Ostia eccetera, in senso io parlo del teatro Biblioteca Quarticciolo, noi abbiamo, penso sia una questione importante perché a giugno scade il mandato, noi abbiamo aperto il teatro il 18 agosto e quindi scadiamo dopo meno di un anno, quindi abbiamo gestito quel teatro per meno di un anno, doveva aprire a gennaio e invece ci hanno fatto aprire il 18 agosto. Secondo me è un tema che riguarda la città e è piuttosto importante perché quei teatri possono essere, hanno un potenziale enorme che in parte è stato sfruttato e in parte secondo me ancora no. Allora, adesso come è stato accennato c'è stata appunto una delibera che è appunto però piuttosto generica che dice che quei teatri andranno al teatro di Roma. Se fra quattro mesi noi scadiamo il rischio più grande, se non c'è una velocità nel fare un ragionamento, un tavolo di lavoro intorno a questa cosa, nel fare uscire un bambino vuol dire che quei teatri ancora per una volta saranno di nuovo chiusi. Quando io sono entrata il 18 agosto, non da sola ma con una squadra di persone, insieme a me c'è Ascario Celestini, Federica Migliotti, Antonino, Giorgio, siamo un gruppo di persone che lavora quotidianamente in quel posto, il teatro era chiuso da un anno e mezzo. Io sto lì da quando hanno inaugurato quei teatri. Sì, è stata una piccola attività Stefania, ma non era un'attività come dire reale, si faceva uno spettacolo ogni tanto, non c'era un'attività. Sì, il punto, ecco io investisco anche al tuo intervento perché vorrei chiarire delle cose che mi sembrano anche importanti. Se non ci si sbriga, i teatri richiudono. Quando un teatro richiude, quando tu lo vai a aprire ricominci da capo, totalmente da capo, ti perdi pezzi di cittadinanza, pezzi di pubblico, artisti. Ho vissuto dei mesi da incubo dove gli artisti in tutta Italia mi telefonavano, ma allora che facciamo? Veniamo a Roma, ma il teatro riapre, non riapre, dei momenti veramente drammatici dove poi sappiamo, essendo io anche una compagnia, anch'io lavorando quando poi su certe date legate a Roma gli artisti ci costruiscono anche una tournée, invece costruiscono comunque un progetto di circuitazione dei loro lavori. Quindi, secondo me se appunto non si accelera un ragionamento intorno a questa cosa, che sia far uscire un bando, che sia, non lo so, ragionare su qualcos'altro, forse questa stessa cosa di cui io sto parlando potrebbe essere un tavolo di lavoro. Perché la delibera è piuttosto generica, vanno al teatro di Roma in che termini, in che modo, in che maniera. Il teatro di Roma non è una società di servizi a un teatro, quindi bisogna capire come. Io vi dico, nel senso che io sono stata presente in quel teatro in varie forme. Quando c'era il teatro di Roma facevo dei laboratori per i cittadini nel quartiere. Poi ho partecipato al bando come direttore artistico, come consulente esterno, non ero io a gestirlo, ma ero un consulente con una squadra di persone che ora non ci sono più, con cui non mi sono trovata bene. E oggi invece gestisce, la compagnia Veronia Cruciani, insieme a Fabrica SRL e al Teatro Viola, gestisce il teatro. Vi dico che la cosa di cui sono sicura, e questo ve lo dico, è che in quel teatro, in quel posto, in quella poriferia, che è piena di vitalità, ma anche piena di problematiche reali, spaccio, prostituzione, eccetera, eccetera, deve essere, ci deve avere un direttore artistico, una squadra di lavoro che quotidianamente sta lì sul posto, perché le persone che stanno lì, come dire, per il loro centro, per loro è quello, e non perché quello è un teatro di quartiere, quello è un teatro che fa una programmazione nazionale, dove vengono tutta Italia, ma ci dimostri due cose che vanno salvaguardate, a prescindere da me, a prescindere da chi c'è adesso, la qualità artistica e il lavoro sul territorio. Il lavoro sul territorio noi stiamo provando a farlo, è chiaro che se un'amministrazione ti dice, gestisci quel teatro per dieci mesi, farò un lavoro sul territorio, io ci posso provare, ho aperto il teatro con un mese di lavori fatte dalle associazioni del territorio, ma diventa difficile, è chiaro che ci vuole una continuità, quindi ci sono queste due cose che vanno salvaguardate, dopodiché voi pensate a questa cosa, quei teatri, a seconda di quando cambia il sindaco e quando cambia l'assessore, cambia gestione. Prima erano del teatro di Roma, poi sono passati a Zetema, dopo poco tempo sono passati al dipartimento, adesso passano al teatro di Roma, ma allora vogliamo concentrarci a capire al di là di chi c'è, al di là di me, al di là di chi è il direttore, qual è il modello più giusto per quel luogo? Io mi agito quando sento dire Stefania e Ostia sono gli unici che hanno difeso il loro spazio, no non è così, lo difendo io con il mio lavoro ogni giorno da anni, perché stiamo lavorando lì e abbiamo investito soldi, tempo e energia. Ostia fa un teatro importantissimo, io ammiro il lavoro di Ostia, mi piace il lavoro che fanno, ma Ostia è un territorio particolare, che ad esempio ha un livello di associazionismo maturo, ha un livello di partecipazione matura perché dal 2000, o non so da quando mi possono correggere se sono qui, c'è un'abitudine a lavorare in un certo modo, dove c'è un dialogo con le associazioni che si è creato, allora questo è un quarticciolo, così, in questo modo, oggi non c'è, va creato, va costruito, quindi mi sono stancata di sentire che Ostia è l'unico che ha difeso il suo spazio, no non è così, l'abbiamo difeso pure noi, lo stiamo difendendo con il nostro lavoro e quel modello lì, quel modello lì che è un modello che a me piace, no Stefania però c'è una retonica su questa cosa che mi sono portate e andiamo avanti, io credo che, scusami, però chiudo, chiudo, a livello generale, sicuramente le strutture sono un tema generale, anche perché non sono mai diventati, e passo un altro argomento, una vera e propria rete metropolitana, l'intenzione era di creare una rete, una rete non lo è mai stata, allora da una parte io vi dico che Roma è una città, non è una città, sono tante città messe insieme, alcuni quartieri ragionano con regole assistanti, quindi ad esempio far calare dall'alto un modello senza capire dove quel modello lo stai calando, è sbagliato, il modello di Ostia è nato dal basso e si vede che è nato dal basso, non è stato calato dall'alto, scusa Stefania poi se puoi intervenire, sei già intervenuta, fammi finire, allora non si può calare dall'alto, è un modello che è nato appunto dal basso, allora dico bisogna ragionare, secondo me, in fretta, perché a giugno scade, se quel teatro chiude veramente, ve lo dico sinceramente, se chiude ancora una volta, veramente è un dramma, per tutti, per gli artisti, la gente che viene lì a fare laboratori, ma ci devono essere persone che quotidianamente, io sono direttore artistico, non è che faccio la stagione teatrale e basta, sono io che faccio di tutto, mi occupo pure dei ragazzetti per strada che non sanno dove andai, entrano al teatro e ne combinano una dietro l'altra, nel senso ci vogliono persone che abbiano la vocazione e che per storia si occupano di luoghi di quel tipo, io lancio la proposta di fare un tavolo di lavoro su questa cosa e di capire poi concretamente di creare un sistema gestionale che duri tre anni, cinque anni, che non è che cambia assessore, cambia sindaco, ogni volta lo spostano dei qua e dell'anno non si capisce niente, riaprirà, non riaprirà, chi lo gestirà, che non lo gestirà, è un incubo, vi assicuro, e non diventa una risorsa per la città, diventa un'emergenza continua. Allora, questo è uno dei tavoli che spero, su cui riusciremo a discutere, grazie, grazie a tutti. Questo potrebbe essere anche il tema di quello che dicevo, un quarto tavolo, tra virgolette, quello sulla governance, cioè sul tipo di mondo di andare che vogliamo a Roma, nel quale magari cerchiamo anche la complicità di Antonio Capri, visto che comunque si ritroverà la patata bollente, forse, diciamo, di questa delibera. Abbiamo iscritti a parlare, Silvia Rampelli, se c'è, c'è? Ecco, ecco, sì, qui lo arriviamo, lo so, abbiamo un elenco molto lungo, e vieni. Come facciamo con chi non è iscritto a parlare?